Benvenuto dal gioco di Mucravo Questa sera si ispideranno a singolar pincone i ragazzi dei Mucravo i ragazzi dei Malta You i Scooby-Doo i Sky & Doll Un applauso! Ma perché la gara sia gara ci va una giuria e noi ce l'abbiamo la giuria e allora avanti giurati e invitiamo sul palco Eusebio Caretta del Comitato Pro Carnevale Pro Carnevale a chi? E del Comitato San Rocco E allora dov'è questo bel balocco? Eusebio Eusebio Caretta Eccolo che arriva con la caretta Venghi, venghi, venghi Giovanni Carlino Sindaco di Moncrivello Allora Già io questo non lo farei salire a priori Che ci sia uno sindaco di Moncrivello cioè nel regno dei Mucravo non mi va bene perché qua se c'è uno che è degno di tal cosa è il conte di Moncrivello E poi Don Lorenzo Pasteris Parroco di Moncrivello Ma l'ha chiesto il conte di Moncrivello di essere il parroco? Un applauso a Don Lorenzo Venga Don Lorenzo di qua E allora Parroco Senza tonaca? Sì Come sì? C'hai già tu le corna Ma Fellone di un parroco Fa sedersi E poi in giuria abbiamo Luciano Regis dell'associazione Pesca Moncrivello Luciano E il pescador Assa già Venghi venghi I pescatori si sa sono come i cacciatori Quanto era grande Passa davanti Quanto era grande la carpa? Così Allarga il braccio di là Così E via E poi Mi ha promesso vestita da tutti Alessandra Pignatà Allora la vogliamo un'altra Da allora Alessandra Pignataro Come rappresentante Dei Masnayun Malena Masnà Dagli Scopido Vediamo chi c'è da questa parte Luciano Imaro Associazione Presidente dell'Associazione Polisportiva Un applauso a Luciano Beppe Pasquale Associazione Vita Tremon Crivello Eccolo che arriva Bravissimo Vai Si accomodi pure Vita Tre Anche Quattro Via Fioretta Regis Associazione Duchessa Yolanda Dove è la Fioretta? Fioretta Ferraris E che siamo talmente pieni di Regis qua Che li chiamiamo tutti con lo stesso nome Ma noi non ci sbagliamo Ma che ce ne frega noi Perché di Ferraris ce ne pochi eh Fornella Udino Proloco Moncrivello Ma glielo fate l'applauso Eh Guarda che caprettina Eh Bene Bertone Antonio I cognomi con la B mi vengono un po' Bertone Bertone Antonio Senti che coro Senti che coro che c'ha Bertone Antonio degli Scooby Doo Un applauso Ah no Il masnaium Ho sbagliato qualcosa Non ce la facciamo Non ce la possiamo farcela Con un applauso Cristian Bono E gentil consorte Sul palco E la nostra Cristian e Stefania Ragazzi Mentre fino adesso Quelli che sono saliti fino adesso Di danza Diciamolo pure Non ne capiscono una mazza Qui abbiamo due Insegnanti di ballo E abbiamo anche la fortuna Quante volte sei stato campione del mondo? Due volte Cioè Ma non è le balle piene Ma cambia ballo Ma se Ormai le vinci tutte No Ormai Cambia Via Buttati Dall'altra parte Via Un altro ballo Lambada Eh beh Moderno Bravo bravo Sempre più moderno Ok Via Vai sederti Vai sederti Vai sederti Un applauso alla nostra giuria Benissimo I nostri votanti Avranno una scheda di valutazione Dove ci sarà segnato il giudice Il gruppo Daranno dei voti Da 1 a 5 In Coordinazione del gruppo E qui Espressività Ampiamo un teso È il Gheddo È il Gheddo Eh Gheddo è chiaro per tutti Cos'è il Gheddo Sì Ok Originalità dei passi Costumi e simpatia simpatia, a vedere il Bertone qua dietro, l'Alessandra di là, su una malbità, via, poi faremo un totale dei punti, stileremo una classifica e avanti con i carri, dopodiché discoteca per tutti.